Lisbeth Windevogel, direi che è andata molto bene. Sì, abbiamo faticato un po' a livello del gioco, però credo che una caratteristica importante di questa squadra è anche che giochiamo quando siamo in difficoltà, che cerchiamo in campo delle soluzioni alternativi e portiamo a casa il risultato, e quello è importante. Oggi queste soluzioni le avete trovate, tu giocavi da opposto, però in realtà poi le hai anche ricevuto dando una mano alla seconda linea, è andato tutto bene appunto. Il risultato dice che siete più forti, almeno in questo momento, di Conegliano. Sì, io a dire il vero non sono un'opposta, quindi faccio un po' fatica soprattutto in attacco, quindi se posso dare una mano in più in ricezione come oggi mi dà anche tante soddisfazioni. Oggi magari la Flo faceva un pochino più fatica in ricezione, ma lei è molto importante in attacco, quindi se lei poteva stare fuori dalla ricezione e fare la seconda linea, lei era anche una buona soluzione nostra. Dobbiamo essere un po' flessibili in questa situazione che mancano i giocatori e trovare soluzioni in campo durante la partita per portare a casa il risultato come oggi. È la vostra dodicesima vittoria consecutiva, questo qualcosa diciamo che vuol dire? Sono due mesi che non perdete una partita? Sì, sicuramente vuol dire che stiamo lavorando, stiamo lavorando bene, che siamo abbastanza con i piedi per terra, che vediamo ogni partita come una partita a sé, una partita nuova, una vittoria da conquistare sempre, non è perché abbiamo vinto ieri che dobbiamo vincere domani, quindi è quella forse la chiave.